Ciao e benvenuto su Tron & Liberty. Oggi andremo a vedere come riuscire a capire in maniera facile quali armi andare a utilizzare per riuscire ad avere un ruolo dentro al gioco. Per ruolo intendo i classici tre ruoli che abbiamo all'interno degli MMO, ossia il tank, l'healer e poi i DPS. Iniziamo subito con la guida. Dunque per fare le build utilizzeremo il sito maxroll.gg. Come vedete in questa posizione abbiamo i ruoli quindi DPS, healer e tank e poi abbiamo la build che cerchiamo per livellare oppure PvE o PvP. In questo caso andremo a parlare dei tank. Quindi facciamo così e usciranno le build per quanto riguarda la classe dei tank. Allora possiamo andare a fare, a indossare quindi le nostre armi con spade, scudo e bacchetta. Qui abbiamo spade, scudo e bacchetta perché questa qui è per PvP e questa qui per PvE. Allora facciamo solo PvE così mi fa vedere soltanto le combinazioni per PvE. Quindi la seconda possibilità di combinazione è spada e scudo perché viene considerata come un'unica arma e poi la grit sword ossia lo spadone. Infine abbiamo scudo e spada più i doppi coltelli. E questo qui è il ruolo del tank. C'è da dire che il primo, vedete questo qua, ve lo classifica qui sotto anche come curatore perché sarebbe un tank tipo la classe del paladino quindi può anche curarsi un pochettino. Ora cambiamo, togliamo il tank e andiamo a mettere la classe del curatore healer. Parliamo sempre del PvE perché sarà la prima scelta che dovrete fare però comunque una volta che avete utilizzato quelle armi ci sono le build anche per il PvP. Dunque, se volete fare il curatore in questo gioco potrete essere anche una classe di supporto e perché generalmente il curatore fa anche debuff. Quindi andiamo a utilizzare le armi dagger e la wand quindi la bacchetta oppure spada e scudo più la bacchetta. Questo credo che sia la classe del paladino praticamente tanto per capire. Poi la bacchetta più la staffa quindi un'altra combinazione di armi e infine poi si può anche usare diciamo la bacchetta più l'arco lungo. E questi sono quattro tipi di build quindi combinazioni di armi per quanto riguarda appunto la classe curatrice più E. Ora andiamo ad affrontare il ruolo che ha più combinazioni, ossia quello del DPS chiaramente. Allora, DPS possiamo farne davvero tantissimi. Dipende poi ovviamente il tipo di ruolo di gioco che volete andare a fare. Quindi abbiamo diversi tipi di DPS. Questa scelta dipenderà un po' da come voi volete giocare. Dunque allora, la staffa insieme ai coltelli, poi abbiamo la bacchetta insieme sempre ai coltelli. Come potete vedere che qui specifica che in questo ruolo siete sia DPS che healer. Come vi dicevo in questo gioco esistono anche delle classi di supporto che sono un po' un misto come in questo caso. Cioè questa per esempio farà DPS però potrà anche fare qualche cura. Ovviamente si parla di supporto quindi le cure saranno fino a un certo punto, non sarà un healer puro. Però se vi piace fare entrambe le cose potete incominciare a fare una build del genere. Invece puro DPS è la balestra con i dagger oppure sempre puro DPS e lo spadone con la balestra. Poi abbiamo qua lo spadone con i doppi coltelli. Qui torniamo a quello che dicevo prima cioè una classe di supporto quindi sia DPS che healer ed è fatta con la bacchetta più la staffa. Poi abbiamo l'arco lungo più la staffa quindi si diventa un bel DPS se vi piacciono queste due armi. Possiamo andare a mettere insieme la staffa e la balestra quindi fate DPS puro. E poi qua invece abbiamo l'arco lungo più i dagger. E infine come DPS sempre possiamo andare a scegliere l'arco lungo più la balestra. Queste sono delle combinazioni più utilizzate dove comunque trovate le build su questo sito che si chiama maxroll.gg e vi consiglio assolutamente di seguire una build perché non è tanto facile poi farsene una. Poi magari in seguito quando siete più esperti potete tentare di farvi una vostra build personalizzata. Dunque ragazzi una volta che avete scelto la vostra combinazione di armi sempre su questo sito potete vedere che vi da sia la build per andare a livellare. Quindi vi farà vedere le prime statistiche da andare a inserire e anche le prime skill da andare a utilizzare. E poi se voi andate a cliccare su PvE vi farà vedere poi quella definitiva quindi di endgame per quanto riguarda il PvE e poi definitiva per il PvP se dovete andare a fare il PvP. Allora adesso io personalmente sto utilizzando la bacchetta e l'arco lungo perché sono healer vedete è questa build qua. Quindi ve lo indica che è healer. Cliccate qua e vi spiega un po' di cose. Se avete difficoltà ovviamente con la lingua inglese vi consiglio di fare la traduzione qua della pagina con Google translate così almeno riuscite a capire meglio. Qui vi dà per esempio una cosa interessante anche quali sono i vantaggi di questa classe e quali sono gli svantaggi. Qui anche per scegliere magari potete dare un'occhiata a questi consigli. Poi come vedete qui per livellare io ho fatto vi dà anche i consigli dove andare subito a mettere i punti delle statistiche. Infatti vi dice che dal livello 1-21 vi conviene mettere 20 punti su dexterity e dal livello 2-21 aumentare il wisdom e infine andare a mettere i 9 punti su percezione. Poi qui vi spiega tutto. Ecco una cosa importante che vi volevo far vedere è che per esempio per quanto riguarda le armature, i gioielli e le armi vi conviene andare a vedere sempre questa build perché dovete tenere presente il nome che vi consiglia. Cioè quando andate a parlare con NPC vi farà vedere cosa vuoi craftare e vi farà vedere non so credo circa quattro tipi di archi lunghi per esempio in questo caso e voi non sapete cosa scegliere perché comunque hanno statistiche diverse e diventa un po' difficile riuscire a capire quale va meglio per noi. Quindi atteniamoci alla build e prendiamo in questo caso lo sniper longbow. Poi qui comunque vi spiega tutto ed è una cosa importante invece andare a vedere poi anche la priorità delle skill. Cioè in pratica la rotazione momentanea dove dovete mettere sui tasti della barra le vostre skill e quelle andare a utilizzare per prima. Ovviamente qui sono suddivise per quanto mi riguarda i skill che vanno a fare danni e sotto sono quelle che fanno le cure. Una cosa importante da andare subito a sistemare e guardare anche la build è il tasto Q che sarebbe questa skill qua vedete. Questa skill qua vi servirà tantissimo quando sui mob comparirà un segno rosa cioè una specie di figura geometrica di colore rosa. Ecco in quel momento lì che vedete il mob o soprattutto i boss che hanno quel simbolo praticamente dovrete andare a utilizzare il tasto Q e quindi la skill che avete inserito qui in questo slot. Poi qui fa vedere le passive che dovete andare a inserire e infine qua se andate poi a cliccare sulle armi vedete vi fa vedere anche come andare a sistemare i punti per quanto riguarda le vostre armi ossia le masteri delle armi. Quindi ricordate di fare questa operazione poi vi spiega un po' tutto ed è molto interessante andarlo a vedere e qui c'è la vera e propria rotazione da andare a fare. Divisa per pvp e divisa per pvp quindi questo sito secondo me è fatto molto bene e andrebbe seguito se volete avere dei buoni risultati. Dunque allora adesso vi faccio vedere qui le weapon skill vedete che qua vi fa vedere proprio tutte le skill che andate a prendere una volta che avete indossato le due armi. Dunque allora le armi vi faccio vedere che dovete fare il tasto P andare a inserire nello slot principale l'arma e poi c'è uno slot secondario la seconda arma quindi l'avete indossate. Qui potete andare a mettere le vostre statistiche qua in fondo vedete che c'è questo numero e sarebbe il gear che avete addosso cioè l'insieme di tutti i pezzi più le armi il potere della vostra armatura e appunto delle armi. Qui ci sono i punti che ancora dovete andare a distribuire adesso invece se fate il tasto K trovate le vostre skill. Dunque allora vedete che qui avete le armi che vanno appunto livellate come le livelliamo facendo varie attività all'interno del gioco quindi quest missione principale eventi eccetera ci danno delle goccioline. Vediamo se ce l'ho nell'inventario da farvi vedere ecco queste qua io le chiamo le gocce e queste qua hanno anche una durata vedete qua dice che durano 11 ore le dovete imparare quindi vi consiglio di impararle tutte almeno andate a perderle e queste goccioline vi daranno i punti per andare poi a livellare le vostre armi. Allora qui dovete cliccare e come vi dicevo prima vi darà da mettere i punti per quanto riguarda le weapon mastery. Seguite la build che vi facciamo vedere prima perché è molto più semplice andare a fare qualcosa di perfetto. Ora invece qui in fondo trovate proprio la vostra barra delle skill dove potete andare a posizionare come volete le varie skill che avete scelto. Qui ve le fa vedere tutte sopra quindi basterà semplicemente andare a trascinare e portare sotto. Una cosa interessante e molto bella è che qui potete trovare i set cioè vedete che c'è set 1, set 2, il set 3 perché qui potete fare appunto una build quindi mettere in barra le skill che volete per quando andate a fare il PvE, quando andate a fare il PvP e poi eventualmente io l'ho fatta anche per le cure. Quindi abbiamo più slot. sulla destra vi fa vedere tutte le skill che avete passive, dovete anche qua scegliere quelle che più vi vanno bene. Una cosa che non ho detto, i numerini vedete le skill un po' oscure col numerino rosso significa che le andate a sbloccare a quel livello lì, in questo caso per esempio al 33 e questa qui al 39. quindi anche qui cosa si fa? Si prende la skill e si trascina sotto. Come vi dicevo qua dovete andare a mettere sul tasto Q solitamente la skill che vi fa da scudo perché servirà tantissimo e infine poi c'è da dire che abbiamo anche le specializzazioni quindi è un po' complesso qui per quanto riguarda le build questo gioco quindi bisogna farle molto bene. Qua ci fa fare una specializzazione ulteriore della skill scelta. Allora prendiamo per esempio, faccio il mio caso perché ovviamente delle altre classi non vi posso far vedere per esempio questa skill qui, ossia la Sweet Healing. Vedete che ci sono quattro slot da dover scegliere e ne possiamo scegliere anche fino a tutte e quattro però di solito non è consigliabile. Per questo vi dicevo se non avete proprio idea di come andare a scegliere un po' tutto controllate quel sito perché vi suggerisce come fare bene la vostra build. Quindi avete qui sotto i punti a disposizione e potete andare a sbloccare appunto queste specializzazioni. Questa per esempio vi permette di curare in maniera uguale al 50%. Invece questa è molto interessante, anzi l'ho trovata estremamente utile perché possiamo andare a utilizzare questa skill per ben tre volte. Quindi possiamo fare uno, due, tre, cioè dare la cura per tre volte. Questa qui è veramente fondamentale secondo me. Le altre lo erano un po' meno perché questa qui va a incrementare il raggio della cura di cinque metri e invece questa qui ridà il mana. Però vabbè per il momento io direi che essendo all'inizio bisogna curare un po' e quindi ho preferito prendere queste due. Poi magari a in game vanno anche cambiare queste specializzazioni. Quindi dovete andare a vedere la build per andare a livellare e poi la build per in game. Dovete fare la specializzazione per le due armi che avete quindi qua vi fa vedere un po' tutte le armi e scegliete poi quell'altra che andate a utilizzare e dovete fare esattamente lo stesso lavoro perché va messo anche qua la specializzazione anche sulla seconda arma. Terminiamo qui è un po' complicato però se avete domande fatele qui sotto nei commenti e vi ricordo che abbiamo una gilda stiamo reclutando ci troviamo sul server zenith al momento poi vi farò sapere se in caso decidiamo di spostarci. Qui potete tranquillamente trovare la gilda quindi all'interno del gioco fare richiesta o in alternativa entrate sul discord che vi diciamo come fare. Nel gioco esiste la possibilità di cercare le gilde basta che qui inserite monte guerra o semplicemente anche monte e vi troverà la nostra gilda. Da questo pannello potete poi fare la richiesta per entrare. Come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo per un prossimo video. Ciao!